Anche a Gravellona, come in diversi comuni, i piccioni stanno diventando un problema di non poco conto. Tanto che il sindaco è stato costretto per far fronte alla situazione a pubblicare un'ordinanza sulla scorta di quanto fatto dai suoi colleghi. Non pensavo, spiega Morandi, che questi apparentemente simpatici pennuti potessero essere capaci di produrre danni di dimensioni così importanti. Abbiamo dovuto spendere diverse migliaia di euro per operazioni di bonifica dei solai di importanti edifici pubblici e mettere in atto una serie di accorgimenti per evitare che potessero tornare a provocare altri danni. Negli ultimi mesi il numero dei volatili si è notevolmente incrementato e sono arrivate segnalazioni di problematiche anche da diversi cittadini che si trovano in difficoltà nel difendersi. Purtroppo abbiamo anche saputo che alcune persone, certamente in buona fede e convinte di far qualcosa di positivo in e vertù di una genuina sensibilità animalista, si prodigano nell'integrale della nutrizione dei piccioni che in realtà sono già bellissimi nel procurarsi il cibo sufficiente a vivere e riprodursi dunque con una notevole efficienza. Ecco spiegato il motivo dell'ordinanza. Abbiamo disposto che si risanino e ripuliscano i mobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni, che si provveda a propria cura e da proprie spese al risanamento e dalla pulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositano guano, nonché al risanamento e alla ripulitura delle aree sottostanti. Chiediamo che si provveda con griglie e reti alla chiusura di tutte le aperture di aerazione e di accesso attraverso i quali i volatili possano introdursi ed impedire la sosta abituale e permanente dei piccioni su terrazzi, davanzali e cortili. Per chi non rispetterà l'ordinanza, conclude Morandi, sono previste sanzioni che variano da un minimo di 80 ad un massimo di 480 euro.